Don Bosco innanzitutto è un educatore e quindi l'educazione sappiamo che è la parte fondamentale della formazione di una persona non solo a livello didattico ma proprio di vita e Don Bosco è un grande insegnante di vita per me lo è stato indirettamente ovviamente però se oggi ho qualcosa di buono devo dire che è grazie a Don Bosco perché mi ha permesso di affrontare la vita con la fede e affrontare la vita con la fede ti permette di affrontare anche i problemi in un'altra prospettiva